Pace a tutti. Ho in cuore di condividere un passo che si trova nel Vangelo secondo Marco al capitolo 6, dal versetto 30, in Tio se l'ho dato. Ora gli apostoli si radunarono intorno a Gesù e li riferirono a tutto quello che aveva fatto ed insegnato. Ed egli disse loro, venitevene indisfatte in un luogo solitario e riposatevi un po'. Perché era tanta la gente che andava e veniva, che essi non avevano neppure il tempo di mangiare, e partirono in barca verso un luogo solitario ed abbattato. E la folla li vide partire, e molti lo riconobbero, e da tutte le città accorsero là a piedi ed arrivarono prima di loro, e si strinsero intorno a lui. E Gesù, sbarcato, vide una grande folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore senza un pastore, e prese a insegnare loro molte cose. Ed essendo già tardi, i suoi discepoli li si avvicinarono e gli dissero, «Questo luogo è deserto, ed è già tardi. Licenza questa gente, perché se ne vadano nelle campagne e nei villaggi all'intorno a comprarsi del pane, perché non ha nulla da mangiare». Ma egli, rispondendo, disse loro, «Date voi a loro da mangiare». Ed essi gli dissero, «Dobbiamo andare noi a comprare del pane per duecento denari e dare loro da mangiare?». Ed egli disse loro, «Quanti pani avete? Andate a vedere». Ed essi accettati si dissero, «Cinque e due pesci». Allora egli ordinò loro di farli accomodare tutti, per gruppi, sull'erba verte. Così essi si sedettero in gruppi di cento e di cinquanta. Poi egli prese cinquanta pani e i due pesci, e alzati gli occhi al cielo, li benedisse. Quindi spezzò i pani, e li diede ai suoi discepoli, perché li mettessero davanti a loro, e divise pure i due pesci fra tutti. E mangiarono tutti a sazietà, e raccolsero dodici ceste, pieni di pezzi di pane e dei resti dei pesci. Or, coloro che avevano mangiato di quei pani erano cinquemila uomini. Quindi essi è la data.